Intanto Negro rilancia il pallone, lo scatto da parte di Gottardi, si presenta solo al limite dell'area del rigore e mette in rete per il vantaggio della Lazio per il vantaggio della Lazio maturato proprio allo scadere del 49esimo Gottardi sigla il gol del successo bianco celeste la Lazio prevale proprio nel finale nei confronti della squadra di Zeman cambia il punteggio dell'Olimpico, Roma 1, Lazio 2